esultiamo il signore nostro dio egli ci chiama amici perché tutto ciò che ha udito dal padre egli ce lo fa conoscere dal vangelo di matteo al capitolo 13 in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo un uomo lo trova e lo nasconde poi va pieno di gioia vende tutti i suoi averi e compra quel campo il regno dei cieli è simile anche un mercante che va in cerca di perle preziose trovata una perla di grande valore va vende tutti i suoi averi e la compra due parabole che svelano la logica del regno ciò che accade nell'uomo quando incontra la parola bella del vangelo incontrare gesù è come scoprire un tesoro nel campo è come trovare una perla preziosa due parabole sono nette precise i verbi si seguono con velocità trova pieno di gioia va vende tutti i suoi averi e compra c'è una velocità nei verbi quando si incontra qualcosa di prezioso non si può rimanere esitanti non si può perdere l'occasione che si è trovata davanti bisogna subito andare e se veramente sei pieno di gioia allora non aspetti vai vendi e compra l'annuncio che gesù ti volge oggi a noi è che se abbiamo gustato quanto è buono il signore quanto è bello essere suoi amici allora la caratteristica della gioia è la fretta la decisione il non attendere ma mettersi subito in movimento prendere decisioni immediate lasciare ciò che ci impedisce l'incontro vendere ciò che abbiamo per acquistare quel tesoro che abbiamo incontrato credo che sia una caratteristica importante un dono da chiedere o signore non renderci credenti esitanti non renderci credenti non gioiosi e quindi fiacchi sappiamo che una delle caratteristiche appunto della sequela cioè della vita che si mette dietro a gesù deve essere la gioiosa fretta di chi ha scoperto un tesoro nel vangelo ricordiamo questo tema presente quando gesù chiama i suoi discepoli si dice che subito abbandonato le reti lo seguirono così quando incontra dei discepoli o meglio delle persone che vogliono diventare sue discepoli discepoli gesù risponde seguimi l'altro gli rispose signore permettimi di andare prima a seppellire mio padre gli replicò lascia che i morti seppelliscano i loro morti tu invece vai annuncia il regno di dio non devi esitare è una frase durissima questa nella quale gesù sottolinea l'urgenza di mettersi in movimento quando si è scoperto il tesoro del regno un altro gli disse signore ti seguirò prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia lascia prima che faccia un'altra cosa anche una cosa buona ma gesù gli rispose nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro e adatto per il regno di dio c'è una immediatezza una decisione veloce che deve prenderci quando il signore accende in noi un santo desiderio quando il signore annuncia una nostra una gioia nel nostro cuore anche san paolo quando racconta la sua vocazione scrive ma quando dio che mi scelse fin dal seno di mia madre mi chiamò con la sua grazia e si compiacco di rivelare a me il figlio suo perché lo annunciassi mezzo alle genti subito subito senza chiedere consiglio a nessuno mi misi in movimento e cambiai vita quel subito sottolinea questa forza che sprigiona la gioia dell'incontro con il signore gesù ricordiamo come invece la tentazione contraria messa in atto dal nemico è proprio quella di farci esitare sant'agostino ricorda i giorni che hanno preceduto la sua conversione aveva intuito che doveva cambiare la predica di san girolamo di sant'ambrogio lo aveva colpito nel cuore però sentiva un'altra voce nel suo cuore mentre desiderava di cambiare una voce risuonava dice nel suo cuore in latino diceva cras 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 cioè domani 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 mi metterò domani chiederò perdono dei miei peccati domani li abbandonerò ma domani per oggi voglio rimanere ancora nel mio stato ecco ciò che può bloccare la gioia del regno perché quando si incontra veramente il tesorio allora bisogna mettersi subito in moto questo proposito ricordo qual è il tema della giornata mondiale della gioventù che si sta svolgendo a lisbona e che vedrà anche la visita del papa il papa ha dato come titolo a questa giornata mondiale una frase del vangelo che riguarda maria la frase è questa maria si alzò e andò in fretta ritorna il tema del subito andò in fretta e commenta così papa il titolo maria dopo l'annunciazione avrebbe potuto concentrarsi su se stessa sui timori dovuti alla sua nuova condizione invece no lei si fida totalmente di dio pensa piuttosto a elisabetta si alza ed esce alla luce del sole dove c'è vita e movimento malgrado l'annuncio sconvolgente dell'angelo la giovane non si lascia paralizzare perché dentro di lei c'è gesù sperimentare la presenza di cristo risorto nella propria vita incontrarlo vivo è la gioia spirituale più grande un'esplosione di luce che non può lasciare fermo nessuno mette subito in movimento e spinge a portare agli altri questa notizia a testimoniare la gioia di questo incontro ecco la caratteristica del regno paragonato a un tesoro a una perla mette subito in movimento quando si incontra gesù vivo quando lo si incontra presente nella nostra vita deve avvenire un'esplosione di luce di gioia che il signore ci aiuti a fare questo incontro a sentire che la nostra fede è questo incontro gioioso che ci mette in movimento e ci mette la gioia nel cuore per andare incontro ai fratelli che il signore ci dona che non siamo chiusi nella incertezza che non siamo bloccati dalla pigrizia ma come maria subito in fretta rispondiamo all'annuncio dell'angelo rispondiamo alla gioia dell'incontro vi benedica dio onnipotente padre figlio e spirito santo amen buona giornata a tutti